Ciao a tutti, oggi sono qui per fare il primo video di presentazione. Io sono Vincenzo, nato nel sud Italia ma trasferito purtroppo al nord all'età di 10 anni, strattonato dalla sua terra. E già da un po' che volevo caricare video su YouTube però non ho avuto mai il coraggio. E già il fatto di stare davanti a una telecamera e parlare da solo è già un passo. Ma se lo fanno tutti lo posso fare pure io. Chi se ne frega del giudizio della gente perché nessuno ti dovrebbe togliere la voglia di fare. Anzi ti dovrebbe incoraggiare ad andare avanti. Quello che le persone non capiscono. Ma chi sta facendo? In questo canale i miei video saranno principalmente divertenti. Lo spero. E niente vi racconterò un po' di me, dei miei hobby, delle mie passioni, cosa combinerà non lo so neanche io. Scopritene insieme a me se la presentazione vi è piaciuta in collaborazione con mia mamma. Ma chi sta facendo? Mettete un mi piace, commentate e soprattutto iscrivetevi. Al prossimo video. Ciao! Che dure sta sto video. Ma chi sta facendo?